Purtroppo, e dobbiamo sottolinearlo, siamo continuamente in emergenza. L'appello è lo stesso che risuona durante ogni estate. In diverse regioni c'è carenza di alcuni gruppi sanguigni. Eh sì, perché il bisogno di sangue non va mai in vacanza ed è importante che le persone in buona salute tra i 18 e i 65 anni siano consapevoli dell'importanza del gesto prezioso del dono e contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche durante i mesi estivi, garantendo la terapia a tutti coloro che necessitano di trasfusioni, interventi chirurgici e trapianti d'organo. Sì, anche quest'anno, come sempre un pochino in estate, abbiamo una carenza di sangue e in particolar modo di alcuni gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni di cui noi abbiamo maggiormente bisogno sono il gruppo A, sia negativo che positivo, e il gruppo 0, specialmente lo 0 negativo. E quindi invitiamo tutti i donatori e soprattutto i donatori che sanno di avere questi gruppi sanguigni di donare. E l'invito che noi facciamo è quello di donare prima di partire per le vacanze. L'Avis di Fano, instancavele, continua per questo a incentivare e a promuovere le donazioni con decine di iniziative organizzate sia al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce che al di fuori, come nei campi da gioco o all'interno di manifestazioni cittadine, dove è sempre presente con i palloncini colorati e con i tanti volontari pronti a dare tutte le informazioni del caso. Così come accade quotidianamente nel nosocomio fanese, dove anche ieri si è svolto un Donor Day dedicato agli sportivi della zona. Quali saranno le iniziative previste per questo fine settimana organizzate dall'Avis? L'evento principale, che è anche quello più importante di quest'estate, è appunto la 24 ore delle beach volley. Si terrà da venerdì 27 dalle 18 per 24 ore, quindi si concluderà le 18 del giorno dopo. E appunto ci saranno ogni ora due squadre da due giocatori che si affronteranno ogni ora per 24 ore consecutive. Nella giornata di sabato invece? Ci sarà il Silent Party alla Cavea del Lido, per concludere un evento che ha scopo benefico innanzitutto. È sempre importante organizzare eventi del genere anche per sensibilizzare soprattutto i più giovani.